15 novembre, a grande richiesta, devo dire, molti di voi mi hanno detto di parlare anche dei mondiali in Qatar che iniziano il 20, finiranno il 18 dicembre, sapete questa edizione che si gioca invernale, in inverno bisognerà valutare un attimino gli orari, se saranno compatibili con gli orari lavorativi delle persone, perché si rischia anche un flop sotto questo punto di vista in questo periodo dell'anno, perché non siamo in estate che tanta gente in ferie e soprattutto gli studenti hanno finito la scuola eccetera, però io poi ragionandoci sopra mi sono reso conto che con la possibilità di vedere le partite in streaming, sui cellulari, parlamo di chiaro, in tante maniere, poi alla fine mi immagino tanta gente che in ufficio non farà altro che mettersi alla partita in streaming sul cellulare, perché alla fine la curiosità di vedere all'opera squadre come Brasile, Argentina, Germania, Spagna, Francia eccetera eccetera, avrà la meglio anche sulla malinconia dovuta all'assenza dell'Italia da questi mondiali, Mancini naturalmente sta correndo ai ripari, perché si è capito che ormai la fragilità del nostro calcio è tale, che bisogna impostare un progetto a media e a lunga scadenza e quindi arrivare in nazionale la gente come Willy Gnonto, come Simone Pafundi e altri che sono gatti, sono solamente ancora dei prospetti di giocatori nazionali, ma già vengono convocati perché si vuole far crescere tutto un gruppo che deve sicuramente riscattarsi dopo le due mancate e clamorose qualificazioni ai mondiali, vi ricordo che l'Italia non supera un turno mondiale dal 2006, perché sia nel 2010 in Sudafrica che nel 2014 in Brasile siamo usciti al primo turno, quindi diciamo che è una crisi che parte da molto lontano, prima di parlare delle centinaia, migliaia di lavoratori che sono morti per costruire gli stati, le infrastrutture mondiali, ma no, parliamo di calcio ragazzi, se no poi il discorso diventa troppo complicato, io vorrei parlare di calcio, vorrei parlare soprattutto delle formazioni per capire quello che ci aspetta, perché tante squadre tra l'altro non le conosciamo, prima però faccio un preambolo sulla situazione Roma, perché voglio chiudere il ragionamento delle scorse settimane, io ripeto questo, non posso perdonare, non posso tollerare una cosa, la sconfitta nel derby, io questa cosa non ve la passo, perché la Lazio veniva dalla sconfitta interna con la Salernitana per 3-1, dalla pesante sconfitta in Europa League, in Olanda contro il Feyenoord che è costata la retrocessione in Conference League, poi vince clamorosamente il derby senza Milinkovic, Stavic è immobile con un gol regalato, poi c'ha la partita in casa con il Monda che sta perdendo il gol di Petagna, bellissimo di tacco, viene annullato per un fuorigioco di un centimetro immagino, se non di più, poi nel finale riesce a vincere un po' così a culo come al solito, poi va a Torino con la Juventus, una squadra che ha faticato a vincere anche a Verona, una squadra con tantissimi problemi ancora, e ne piglia 3, finisce 3-0, nonostante Milinkovic, Stavic è dal primo minuto, quindi qual era il valore reale di questa squadra? E' quello che dicevamo noi, la Lazio è una squadra che si poteva tranquillamente battere nel derby, ma proprio tranquillamente, è un delitto, non aveva vinto questa partita, ed è per questi motivi che poi c'è stato anche un effetto depressivo dopo questa sconfitta che ci ha portato ad affrontare anche da Stuolo e Torino uno spirito negativo, e poi alla fine questo spirito negativo lo abbiamo pagato. Però io devo dire questo, uno dei motivi di questi problemi che abbiamo è una cosa che non ho detto, in certo senso mi sono dimenticato di dirla e la devo dire, è Tiago Pinto, uno dei motivi per i quali questa squadra non è cresciuta come doveva crescere è un direttore sportivo che è un buon direttore sportivo, ma niente di che, questa è la verità, perché il calcio mercato, che non a caso Mourinho definisce mercatino, e attenzione perché è una definizione molto importante, non può essere sanato dal capolavoro di Bala, che è un giocatore preso a parametro zero, perché se no non sarebbe mai venuto, non l'avremmo mai preso, preso a parametro zero, lui vuole sapere che voleva andare all'Inter, la Juve a un certo punto non si fida più della fragilità muscolare che ha di Bala, la Roma ci crede, grande presentazione al Colosseo Quadrato, di Bala benissimo, subito, una classe riconoscibilissima, ma poi si fa male, l'assenza di Bala da Roma la paga tantissimo, e bassano i 20 minuti col Torino, per farci capire che con di Bala sarebbe stata tutta un'altra cosa, però, le squadre di calcio non sono fatte da uno, due, tre giocatori, e questo è il punto, la Roma, negli ultimi anni, ha commesso un sacco di errori, anche in calcio mercato, ad esempio, Shomurodov, Vigna, questi giocatori qua. Però adesso tu, per completare e rinforzare questa squadra, mai preso Shalik, per esempio, già sapendo di avere un terzino come Kasdor, sul quale ci si poteva contare fino a un certo punto, sia dal punto di vista tecnico, perché Kasdor non sa difendere, l'abbiamo visto proprio nel gol del pareggio, con il Sassuolo, sia dal punto di vista mentale, perché è un ragazzo un po' esuberante, eccetera. Quindi, tu prendi Shalik, che è un giocatore normale. Shalik è il Bruno Perez turco, cioè è uno che ti fa una partita da 5,5-6, se la Roma gioca una grande partita, ti arriva al 6,5, ma quello può fare, può tenere bene la posizione, porta avanti la palla, la dà a quello vicino, non è un giocatore che ruba l'occhio, che ha delle qualità particolari, eccetera, eccetera. Pinazzola, per esempio, è un giocatore che ha delle qualità particolari, perché è uno che va sul fondo, che crossa anche bene, è uno che salta all'uomo, quello è un giocatore che ha delle qualità, poi se sei in fortuna, e non sta bene fisicamente, perché è stato fermo un anno, è un altro discorso. Selic non ha queste qualità tecniche, quindi già quello è un errore, ed è un errore grave in una difesa che poi ha un Kumbulla che non gioca mai, perché Murigno fondamentalmente non crede in Kumbulla, quindi poi noi abbiamo tre difensori contatissimi. Però l'altro errore pure è stato Camarà. Camarà è un giocatore, è stato per noi molto utile quando si è infortunato Wijnaldum, perché si è visto che i Stunt e Matic non sono una coppia ben assortita, serviva assolutamente andare a prendere rapidamente uno che potesse dare una mano fino a gennaio o febbraio, e si è preso Camarà, che è molto giovane, è un ragazzo della Guinea, non mi ricordo se era la Guinea o della nuova Guinea, giocava mi pare in Turchia, zero esperienza del decalcio italiano, ma soprattutto non ha ancora, tuttora, 90 minuti nelle gambe, che è un problema ragazzi, perché lui arriva e come ha detto Murigno, lui fisicamente non era pronto quando è arrivato, ci ha voluto tempo per metterlo in sesso, poi finalmente lo lancia, sempre a mezzo servizio, ma questo ancora oggi non ha 90 minuti nelle gambe, lui ha, se va bene, se va bene, 70 minuti, cioè lui ti fa un tempo bene, senza problemi, poi dopo 15-20 minuti ha un calo, e alla fine lo devi togliere, perché non ce la fa più, quindi oggi purtroppo, mi dispiace dirlo, ma possiamo dire che Camarà non era il giocatore che dovevamo prendere, noi avevamo bisogno proprio del contrario, cioè un giocatore pronto, subito, subito, prima partita, dentro un'ora, e poi dalla seconda 90 minuti, questo va un bisogno noi, quindi purtroppo Tiago Pinto, c'ha il difetto, tante volte, di prendere, non i giocatori che servono, ma i giocatori che si possono prendere, in quel momento lì, come anche Belotti, che ha un parametro zero pure lui, e se poteva prendere con facilità, ci hanno insistito anche troppo, lui ha aspettato tanto, perché giustamente quando gli capita, di venire a giocare una società così importante, quando gli ricapita, Belotti è un, mi auguro che sia un buon giocatore, finora ancora non si è visto, però purtroppo il rendimento di Belotti è, se non sbaglio, 15 partite, lui è arrivato dopo, diciamo dalla quinta, mi pare, 10 partite di campionato, zero gol, è un rigore sbagliato, che è anche un rigore importante, quindi anche il discorso Belotti, ora Ebram fa dei proclami, gli tifosi, chiediamo scusa, i tifosi meritano molto di più, lo dicevamo anche con l'amico Renato Costanzo, ieri che mi ha mandato un email, dove diceva che è una mancanza di rispetto, nei confronti dei tifosi, giocare in questa maniera, certamente, ma loro infatti chiedono scusa, se ne rendono conto, però è troppo facile, raga dopo 15 partite che hai toppato, dire sì avete ragione, non sto rendendo quello che posso fare, e quindi adesso, ma state tranquilli, che mi riprenderò, e farò, e destra e tinista, ma il campionato ce l'avete già impiccato, è come il padre di famiglia, che perde il lavoro, rimane lì un po', così a guardarsi intorno, nel frattempo, gli affitti non li paga, che va sotto sfratto, allora a un certo punto, la famiglia dice, oh ma qua è arrivato lo sfratto, ci mandano via di casa, e quelli, scusate, ma adesso, capito, mi metterò, mi impegnerò, vedrete che quando la prossima casa che avremo, lavorerò, cioè tu, il problema lo devi affrontare quando c'è, capito, dopo è tardi, dopo 15 partiti di campionato, e 6 di, se non sbaglio, sono state 6 di Europa League, tra l'altro, si è giocato pure la qualificazione, la convocazione al mondiale, che è un danno anche patrimoniale, poi per la società Roma, che ha un giocatore che, se avesse giocato i mondiali, valeva di più, lo capite questo, anche a livello di immagine, anche a livello pubblicitario, diciamo, della società, è un testimonial anche della società, che avesse giocato anche un paio di, non so, 20 minuti, un paio di volte ai mondiali, quindi è fatto un danno anche in quel senso, per cui oggi è troppo tardi, per correre ai pari, per crescere, ebbene tra l'altro fischiato sonoramente, come anche Cristante, quando è uscito in Roma-Torino, dai 60-70 mila dello Stadio Olimpico, noi dobbiamo anche capire, che a fine stagione bisogna cambiare, direttore sportivo, perché lui fa quello che dice Mourinho, Dybala e forse anche Guainaldo, non sarebbero mai venuti a Roma, se non c'era Mourinho, parliamo di chiaro, è così ragazzi, Mourinho ha avuto, con il suo carisma, la sua autorevolezza, ha saputo presentare, io mi ricordo, lo scorso anno, l'ultima partita fu Torino-Roma, c'è proprio, ci sono le immagini di Mourinho, che va da Bremer, e gli dice, bravo, complimenti, vieni da noi, vieni con noi, proprio in campo, quando alla fine della partita, c'è questo video, e Bremer rimane un po' perplesso, anche perché probabilmente, già c'era le sirene giuventine, nella testa, però Mourinho, voglio dire, è uno che, capito, non è che, è uno che prende lui l'iniziativa, alza il telefono, capito, qual è il discorso, Tiago Pinto, fa un po' quello che dice Mourinho, però non lo fa bene, perché, ve l'ho dimostrato, con ragionamenti, che ho fatto, prima, cioè, noi, a inizio stagione, dobbiamo avere, chiaro, qual è il nostro orizzonte, non si può vivere la giornata, l'orizzonte per i frittin, è entrare fra i pinu 4, perché la Champions League, è una vetrina economica, di tutti i generi, diversa dalle altre, per cui, la Roma, che è una società ambiziosa, e tutto quanto, deve entrare in Champions League, il fatto di essere oggi, in questa posizione, ci impone, a gennaio, un calciomercato pesante, e io dico, c'è un Cristiano Ronaldo, che è in rotta di collisione, col Manchester, che ormai, con le interviste, che gli lasciavano i primi giorni, non giocherà più, con la maglia del Manchester, e lui, a gennaio, se ne va, sicuramente, perché non cercare, di approfittare, di questa situazione, approfittando del fatto, che la gente di Mourinho, George Mendes, sia lo stesso, di Cristiano Ronaldo, e quindi, Mourinho non deve fare altro, che dire a Mendes, Mendes, dia a Ronaldo, che qua, serve, siamo pronti, a fare di lui, un idolo, in questa città, per anche, trovare delle formule, non lo so, in prestito, per sei mesi, quello che sarà, vieni a darci una mano, per vincere l'Europa League, perché, voi capite che, con un attacco, Di Bala, e Ronaldo, noi, in Europa League, ce la giochiamo, cioè, ovviamente, la squadra va rinforzata, anche in difesa, a centrocampo, però, recupereremo, Wijnaldum, se non dovessimo, e Spinazzola, se non dovessimo, avere troppi infortuni, come ne abbiamo avuti tanti, purtroppo, fino adesso, con Ronaldo, che sarebbe un colpo straordinario, anche in termini di immagini, di testimonial, cioè, come testimonial, gli sponsor sarebbero contenti, gli americani, questi discorsi, li capiscono molto bene, quindi, io, sinceramente, visti quelli che sono, gli attaccanti della Roma, se noi, pensiamo di riprenderci, di fare una grande stagione, con Ebram, Shomurodov, Belotti, Asharawi, purtroppo, ragazzi, siamo fuori strada, qua, loro devono capire, che è il momento, di mettere la mano, nel portafogli, e di prendere, dei veri giocatori, forti, 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 per questo, non sarà fatto, questo, sarà un anno di transizione, sarà l'ennesimo anno, di transizione, alla fine, arriveremo un'altra volta, sesti, eccetera, eccetera, quindi, magari usciremo, che ne so, un semifinale, magari, in Europa, lì, che però usciremo, ma neanche ci arriviamo, un semifinale, con questa squadra, quindi, usciremo, magari, in Coppa Italia, a Napoli, dopo elimineremo il Genoa, poi usciremo con Napoli, cioè, qui serve un cambio di lotta, e chiudo, la parentesi Roma, adesso parliamo del mondiale, perché me l'hanno chiesto, più di qualcuno, riusciamo a metterlo, un po' a fuoco, innanzitutto, vi dico, che la prima giornata, le prime partite, le prime quattro partite, c'è l'esordio, Qatar-Ecuador, vi do anche le quote, per farvi capire un po', allora, Qatar-Ecuador, 3-25, la vittoria del Qatar, 3, il pareggio, 2-25 dell'Ecuador, che è una squadra, che è molto più esperta, è una squadra, anche rognosa, che, diciamo, se non fosse che, affronta i padroni di casa, avrei anche quale sarà l'arbitraggio, vediamo che tipi di arbitraggio avranno, sarebbe anche favorita, quindi sarebbe anche buona come quota, però, sul Qatar, non sono in grado di esprimere nessun giudizio, perché non ho mai visto i giocavi, non ho la più pallida idea, proprio di come gioco, anzi, mi devo andare a vedere qualche high-likes, poi c'è Inghilterra-Iran, 1-32, 4-25-12, che, tutto sommato, non è neanche male 1-32, l'Iran è una squadra molto, gioca molto sull'agonismo, ma, l'Inghilterra, chiaramente, a livello tecnico, dovrebbe, essere molto superiore, poi c'è Senegal-Olanda, addirittura a 6, la vettoria del Senegal, 3-75 il pareggio, 1-55, se, farà molto caldo, questa partita, dovrebbe essere un po' insidiosa, secondo me, per l'Olanda, perché, non dimentichiamo, che nel Senegal, gioca, ad esempio, in difesa, Khalidou, Koulibaly, e, in attacco, non si sa bene, se giocherà, ma ci sarebbe Sadio Mané, bisogna vedere, se giocherà Sadio Mané, allora, il Senegal, già ha due pedine, ha due pezzi della 90, quindi, aiutata dal caldo, secondo me, potrebbe imbrigliare, sarebbe un po' la prima sorpresa, di questo mondiale, poi c'è Stati Uniti Gallers, con gli Stati Uniti, che hanno per centravanti, il figlio di Giorgio, UEA, che è nato negli Stati Uniti, e quindi, alla cittadinanza americana, e, quindi, insomma, sono curioso, di vedere all'opera, il figlio di Giorgio, del grande Giorgio, UEA, col Gallers, quindi, 2,60 l'1, 2,90 l'X, e, a 3, la vittoria del Gallers, in una partita, anche abbastanza indecifrabile, perché, gli Stati Uniti, hanno tanti giocatori nuovi, che non conoscono, hanno questo, si chiama, adesso lo vediamo dopo, nelle formazioni, che, se ne dice un gran bene, in questo momento, non mi ricordo il nome, allora, quindi, sono 32 squadre, ogni squadra, ha 26 giocatori, e, vi, vi leggo le formazioni, molto rapidamente, in modo che, ci facciamo un'idea, di quella che è la situazione, di questo torneo, che ripeto, finisce il 18 dicembre, allora, vediamo un po', primo storico mondiale, per il Qatar, allora, il Qatar, allenato da Felix Sanchez, giocano il 3-5-2, sono giocatori, immagino che anche voi, non conoscete, Al Sheb, in porta, Michel Salman Al Rawi, e poi, Al Rawi, in altro, Al Rawi, Budiaf, Al Haidoth, Atem, Hassan, questa è la mediana, Muntari, è un nome che a noi ci ricorda, naturalmente, la nuova vicenda, notere lo scudetto rubato al Milan, Montari e Ali, questo è il Qatar, non sono assolutamente in grado di dare una valutazione. Nell'Equador, occhio alla difensore centrale, Incapie, e al terzino sinistro, Estupinian, che siano due buoni giocatori, giocano nel 4-3-3, allenati da Alfaro, Dominguez, Preciado, Poroso, Incapie, Estupinian, linea mediana, Franco, Gruezzo, e Caicedo, e, gli offensivi sono, Plata, Valencia, e Ibarra, vediamo un po', poi, il Senegal, Senegal, hanno questi due giocatori di alto livello, Coulibaly e Manet, c'è anche l'attaccante della Salernitana, che sta facendo benissimo, Dia, il milanista Ballotouret, e il portiere Mendy. Al momento Manet è in Qatar da infortunato, non credo che giocherà la prima partita, ma vedremo. Quindi, il Senegal, con Mendy, Sabalì, Diallo, Coulibaly, Ballotouret, questa è la difesa. 4-3-3 giocano, poi a centrocampo, Idrissa Cuyé, Mendy, Cuyate, e in attacco, la formazione di titolare, Manet, Dia, Ismail Asar, che è un talento, l'allenatore, Aliu, Cisse. È una squadra, questa, che secondo me è una mina vagante, se giocherà Manet, se non giocherà Manet, è un po' diverso, però. L'Olanda di Van Gaal, con il, bomber, Gakpo, pronto a diventare titolare, e un giovane anche in rampa di lancio, come Xavi Simons. 3-4-2-1, con Passvere in porta, Deligt, Van Dyke, Ake, Danfries, Deron, Bergwis, Blind, e Klaasen Depay, dietro Bergwin. È una squadra, che secondo me, tutto sommato, è una buona squadra, ma niente di che. Con alcuni italiani, che avrete sicuramente riconosciuto, no, Deligt, Deron, abbiamo detto, Danfries. Poi c'è l'Inghilterra, che è una squadra che conosciamo bene, perché l'abbiamo affrontata diverse volte negli ultimi tempi, con il 4-2-3-1 di Southgate, Pickford in porta, Alexander Arnold, McGuire, Stone, Shaw, Rice, Bellingham, Saka, Foden, Sterling, e il titolarissimo, centravanti, Kane. Una squadra forte, anche questa, ma non credo che andrà, fino in fondo. Poi c'è l'Iran, che ha l'attaccante del porto, Taremi, che ha il dubbio in porta, tra Beiran Vand, e Abed Zadeh. Dovrebbe giocare Beiran Vand, 4-3-3, allenati da Queiroz, con questi sono nomi complicati per me, allora, Khalil Zadeh, Canani, Oseini, Mohammadi, Noraf Khan, Golizadeh, Mur, mamma mia, Nuro Lai, le tre punte sono, Ansarifad, Taremi, Azmun, grandi problemi anche per i telecronisti, con questi nomi, l'Iran ha un esodio molto complicato, contro l'Inghilterra, Taremi però, rompe i coglioni non da poco, è un giocatore, molto fisico, fastidioso proprio, gli Stati Uniti allenati da Berhalter, che come vi dicevo, hanno in attacco, 4-2-3-1, Turner fra i pali, Dest, Zimmerman, De André, Robinson, McKennie della Juve, Adams, Reina, Pulisic, ecco, era quello il ragazzo con il mercato del nome, Ivan, Ivan mi pare, credo che si chiami Ivan, comunque, Pulisic, Weah e Ferreira, ma gli Stati Uniti credo che non faranno granché, il Galles, Anne 6 in porta, Ampadu, Rodon, Ben Davies, da Ben Davies, Roberts, Alan, Ramsey, Williams, James, Bale, e Moore, prima punta, l'allenatore è Page, una squadra che secondo me non supererà il primo turno, insomma, ecco, l'argentina, squadra che conosciamo bene, Scaloni è l'allenatore, Martinez, Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria, questa dovrebbe essere la formazione, con Di Bala è pronto a, risolvere qualche partita con la sua classe, è una squadra assolutamente molto forte, poi c'è la rabbia saudita che, già mi sento male solo all'idea di leggere la formazione, per la seconda volta ai mondiali, la prima mi pare fu proprio nell'82 se non sbaglio, no è al 94 quando c'era l'Arabia Saudita, quindi quella era al Kuwait, mi stavo confondendo con il Kuwait, quindi nel 94 si qualificò per gli ottavi di finale, 4-3-3, Renat è l'allenatore, Al-Ovai ci importa, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulai, Al-Sharani, questa è la difesa, Canno, Al-Farai, Otaif, la mediana, l'attacco è Baebri, Al-Burai Khan, Al-Davzari, mamma mia che nome ragazzi, spero che escano presto, solo per non leggere più una formazione del genere, del Messico, con Martino, allenatore, giocatori rispetti come il portiere Ochoa, in avanti Lozano, giocatore del Napoli, quindi Ochoa, Alvarez, Montes, Moreno, Gagliardo, Rodriguez, Alvarez, Herrera, Alvarado, Gimenez e Lozano, ma la squadra che su mano, anche questa non è che mi convinca molto, la Polonia, la Polonia di Zalewski, anche di Milik, Glick, Kivior, e Zielinski, e anche Szczesny, ci sono tanti giocatori, che vengono al campionato italiano, vicino al bomber Lewandowski, al bomber del Barcellona, quindi allenatore, mamma mia, Mikniewicz, 3, 4, 2, 1, Szczesny, Bendare, Szczesny tra l'altro, ex portiere della Roma, come ricordate, Bendarek, Glick, Kivior, Kasch, Krikoviak, Zurkowski, Grosicki, Zielinski, Zimanski, dietro a Lewandowski, quindi Zalewski sarà in panchina, con anche Milik, naturalmente io ho letto come è scritto, ma la pronuncia polacca è molto complicata, quindi in realtà questi nomi si leggono in tutta un'altra maniera, poi la Francia, la Francia campione del mondo, difenderà il suo titolo senza due giocatori di alto livello, Pogba e Kanté, che non è poco, escluso anche il portiere del Milan, Magnan, ci saranno invece Giroud e Rabiot, la Francia quindi, che parte con grande ambizione, 3-4-1-2, con Lolis in porta, Koundé, Varane, Hernandez, Pavard, Kamavinga, Chouameni, Teo Hernandez, il giocatore del Milan, Poi c'è Griezmann, che dovrebbe agire dietro due ai pezzi da 90, Mbappé e Benzema, con Deschamps allenatore, e l'attacco della Francia è molto forte, vediamo che tipo di equilibrio tattico riusciranno a costruire senza Kanté e Pogba, l'Australia allenata da Arnold, a centrocampo c'è Rustic, del Verona, e abbiamo anche tra i convocati Karasik del Brescia, 4-2-3-1, Ryan in porta, Atkinson, Deng, Dejenek, in difesa, King, Irvine, Mui, poi c'è Rustic, il citato russo, McGree e Lecchi, e Duke, Duke è la prima punta, una squadra che sinceramente mi sembra debole, Danimarca, allenatore Juhlmann, 4-3-3, con Schmeichel, Christensen, Andersen, Christensen, Mele, dell'Atalanta, Delaney, Eriksen, e rivedere Eriksen ragazzi è clamoroso, dopo tutto quello che gli è successo, Eubiag, poi c'è Skowolsen, Dolberg, Damsgaard, ma una squadra anche questa che non è che mi convinca molto, poi c'è la Tunisia, allenata da Kadri, che è delle cinque squadre africane, sulla carta la più debole, Ben Said, o Said forse, Drager, Bron, che gioca nella Salernitana, Talbi, Mahalul, Laiduni, Cialeli, Schiri, Sliti, Cazziri, Mshakni, ma questa è una squadra che un punto interrogativo, non ho proprio idea, non so che dirvi proprio, per quanto riguarda la Spagna, l'allenatore è l'ex allenatore della Roma, Luis Enrique, che metterà a centrocampo i giovani Pedri e Gavi, che sono due considerati due mezzi fenomeni, il portiere sarà Unai Simona, che è preferito a De Gea e Kepa, ci sarà anche Anzufati, e quindi Unai Simona, ad Piliqueta, alla porte Eric Garzia, Giordi Alba, questa è la difesa, Pedri, Buscheghavi, Ferran Torres, un giocatore che a me piace, Morata e Sarabia, questa è la Spagna, molto temibile sicuramente, anche per la mentalità, la qualità del gioco, a Costa Rica, allenatore Suarez, molti dei giocatori convocati, e la curiosità, erano già presenti nel 2014, nel mondiale 2014, che fu trionfale per la Costa Rica, che giunte fino ai quarti di finale, quindi una squadra piuttosto vecchia, con Navas, Keylor Navas in porta, Walson, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejada, Bennette, Campbell, che è un giocatore rognoso Campbell, e Venegas, penso che è una squadra che, essendo anche vecchia, non farà molta strada, la Germania di Flick, che ha perso Werner a poche settimane dai mondiali, dovrebbe essere sostituito da Averse, che è un po' un giocatore molto lunatico, capitano è Neuer, quindi Neuer, in porta Closterman, che secondo me, e secondo anche alcuni amici, un giocatore che potrebbe servire anche alla Roma, Closterman, Sule, Rudiger, Raum, poi Kimmich, Gundogan, Gnabry, Müller, Sané, e Averse, ma mi sembra un'edizione della Germania, ne abbiamo visti sicuramente di meglio, ecco, non credo che la Germania farà bene in questo mondiale, nel Giappone c'è la vecchia conoscenza, l'ex Inter, Nagatomo, pensate un po', e il portiere di riserva, Kawashima, che è arrivato al quarto mondiale, pensate, la squadra, tutto sommato, ha dei giocatori anche a Serie A, tra cui Tomiatsu e Yoshida, giocano il 4-1-4-1, con Gondo in porta, Tomiatsu, Itakura, Yoshida e Nagatomo, sono curioso di rivedere all'opera Nagatomo, io pensavo che avesse smesso di giocare, Endo, Poi, Ito, Tanaka, Morita, Kubo, che sembra la filastrocca, Ito, Tanaka, Morita, Kubo, e Minamino è la prima punta, ma Moriato è l'allenatore, insomma, non mi aspetto certamente miracoli da questa squadra, Poi c'è il Belgio, che è una squadra molto forte invece, allenata da Martínez, col dubbio Lukaku, fino all'ultimo, Courtois in porta, la difesa, De Bast, Alderweireld, Vertonghen, Munier, Witzel, Tillemans, Castagne, che giocava anche nell'Atalanta, poi De Bruyne, il grande De Bruyne, Hazard, Eden Hazard, e Lukaku, la squadra sicuramente che può fare molto bene, è un grande portiere, il Belgio, penso che farà un ottimo mondiale, poi il Canada, il Canada è allenato da Erdmann, 4-4-2, con Borgian, Johnston, Vittoria Miller, e Ade Kugbe, questa è la difesa, Lariea Hutchinson, Eustachio Davis, Larin David, queste sono le due punte, una squadra sulla quale non vi dico nulla, perché non la conosco, non la conosco, passiamo al Marocco, che ha nella sua rosa Akimi, e forse in extremi sarà convocato Brian Diaz del Milan, anche a spagnolo, ma anche il passaporto marocchino, perché c'è stato un infortuno nel loro giocatore importante, proprio nell'ultima partita, quindi potrebbe a sto preta essere chiamato Brian Diaz, quindi, Bono in porta, Akimi, Dari, Saiz, Madraui, Unai, Amrabat, della Fiorentina, Fiech, Arit, Arit è quello che si è infortunato, quindi questa formazione non ci potrà essere, perché proprio appunto nell'ultima partita si è infortunato, e poi, Bufalla, e la prima punta è El Nesdri, scusate ragazzi la pronuncia, io già ce la dica a pronunciare, a leggere i nomi italiani, immaginate questi, l'allenatore, Reg Raui, vabbè, questi, già per i nomi che ci hanno, prima escono è meglio, eh ragazzi, allora, Croazia, ecco un'altra bella squadra, allenata da Dalic, può contare su, Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, la Croazia potrebbe essere un po' la sorpresa, eh, in difesa c'è il totem Lovren, Allora, Livakovic in porta, è un 4-3-3, Stanific, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Kramaric, e Peric, Vlasic, Kramaric, e Peric, eh, questa è una squadra, una brutta squadra, non ci vorrei giocare questa squadra, la Croazia, secondo me, è una di quelle che, c'è un po' una squadra molto molto rognosa, molto rognosa, a livello tecnico anche molto alto, ragazzi, il Brasile, il Brasile, lo conosciamo bene, è allenato da Tite, 4-2-3-1, Alisson in porta, Danilo, Marchignos, Tiago Silva, Alexandro, quindi quattro giocatori, tutta la difesa, anche il portiere ha giocato in Italia, quindi Alisson, Danilo, Marchignos, Tiago Silva, e Alexandro, Fred Casemiro, e l'ex Milan, Paquetà, che al Milan andò male, Rafinha, Neymar, Vinicius, allenatore Tite, e questa è una squadra che chiaramente va al mondiale con grandissime ambizioni, la Serbia ha Stojkovic allenatore, Rajkovic, Velikovic, Milenkovic, Pavlovic, Pavlovic, Vilkovic, Milenkovic, Savic, Lukic, Kostic, quindi c'ha Milenkovic della Latteo, Lukic del Torino, Kostic della Juve, Tadic, e davanti ci sono Mitrovic, e Vlaovic, e Vlaovic, proprio lui, quello della Juve, quindi una squadra sicuramente bella tosta, questa è bella tosta, in porta c'è il dubbio tra Rajkovic e Vanya Milinkovic, Savic del Torino, che è il fratello di quello che gioca a centro campo, la Svizzera, la conosciamo bene, ci abbiamo purtroppo giocato nelle qualificazioni mondiali, Iakin è l'allenatore, Sommer, Widmer, Acani, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Chaka, Shakiri, Sou, Vargas, Embolo, ma che sa, ti butti a squadra, la squadra non mi piace, la Svizzera la eviterei volentieri, il Camerun, allenata da Song, con Ciupo Motting del Bayern, e col portiere dell'Inter, Onana a centro campo, attenzione a Anghissa, che secondo me è un grande giocatore del Napoli, Onana in porta, Faica, Stelletto, Unculo, Nutolo, Ongla, Goe, Anghissa, Ciupo Motting, Abubakar, Toco e Cambi, non la conosco bene, però c'è qualche giocatore, insomma, guardate Anghissa ragazzi, è uno dei segreti del Napoli, magari l'ha visto la Roma, anche se c'è, poi c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che è giunto al suo quinto e ultimo mondiale, cosa che è successa prima solo a sei giocatori, quindi in porta dovrebbe giocare proprio Rui Patricio, della Roma, Cancelo Pereira, Ruben Diaz, Nuno Mendes, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Carvaglio, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, 2LA o il Milanista LEA, allenati da Santos, una squadra secondo me molto forte, che se trova la quadra, se trova i giusti equilibri tattici, potrebbe fare molto bene. E sicuramente l'etico di questo mondiale, il rendimento in questo mondiale di Cristiano Ronaldo, sarà determinante per la sua carriera, a questo punto, che è un punto cieco, però se lui fa un grande mondiale, vedrete che qualcosa succede. Ilgana, allenatore 8, Addo, 4-1-4-1, Atizigi, Odoi, Amartei, Lampei, Dicu, Baba, Sulemana, Kudus, Partey, Ayo, e Williams. Non dico nulla, perché non li conosco. C'è Kudus dell'Ajax, ma i giocatori maggiormente rappresentativi, sono Inaki Williams, e Thomas Partey, ma io non li conosco bene, quindi non dico nulla sul gara, che comunque è una scuola, sempre molto rognosa, che è una scuola anche bella tosta, tosta ma anche tecnica, loro non sono da sottovalutare. Poi l'Uruguay, Alonso è l'allenatore, 4-4-2 con Fernando Musler, era in posta, pensate un po' con tutte le pavere che ha combinato nella tua carriera, è riuscito sempre a rimanere ai poteri, titolare della nazionale, incredibile. Varela, Godin, Gimenez, Oliveira, Valverde, Bentancur, Torreira e Vecino, Suarez e Nunez, Darwin Nunez, Nunez, del Liverpool, quindi niente male anche l'Uruguay, io vedo sempre una grande mina vacante nel Musler a Fraipali, perché mi ricordo tante regole papere, anche la Lazio, vabbè. Quei giocatori che sono un po' un mistero del calcio, dovrebbero scomparire, ma hanno un carattere molto forte, proprio, e riescono ovviamente a digerire delle figuracce, dei periodi di crisi e riescono sempre a rimanere a galla e sotto questo profilo devo dire che veramente un grande applauso perché Musler a veramente fece delle papere, ragazzi, ma anche in nazionale. Corea del Sud, ah qua poi, no, io manco saprei i nomi come sono, allora, Paolo Bento è l'arenatore e questo comincia bene. In difesa c'è Kim del Napoli e Son del Tottenham, ecco questo, che viene considerato il più forte calciatore asiatico di sempre, Son, quindi già abbiamo due giocatori che dice, ma Corea del Sud, poi senti Kim e Son, e Son, allora, e Son, e quindi già dici, beh, oddio, non è che sono proprio tutte queste pippe. Allora, Kim, se è un Ju, importa, Kim, Tai Wan e Kim, quello del, si chiamano tutti Kim, ho già capito, Kim del Napoli si chiama in realtà Kim Min-Neh-Jai, quindi è un casino veramente leggere questa formazione, ragazzi. Allora, riproviamo, allora, il portiere è Kim Seung-Ju, poi, difesa a quattro, Kim Tai Wan, Kim del Napoli, Kim Jong-Gwon, Kim Jin-Soo, questa è la difesa. Poi, due davanti alla difesa che sono Jung, Vo, Jung, Wang, In, Beom, Mediana, Wang, Yi, Chan, Li, Je, Sung, Son, Eung, Min, l'attaccante è Wang, Uyo, io non lo so come farà l'altele colonista questa partita, l'altele colonista ancora per, cioè, non so proprio come, cioè, se dovrà scegliere un sistema, chiamarli solo con l'ultimo nome, non si capisce un cazzo, non si può andare avanti, non si può leggere, non si può fare una telecronaca in questa maniera. Vedremo, vedremo come faranno, abbiamo letto tutte e 32 le formazioni, quindi, naturalmente, c'è la mancanza dell'Italia, alla fine, vedi, vabbè, ma l'Italia, l'Italia, purtroppo, abbiamo preso anche il posto, ragazzi, quindi comincia con grande curiosità questo mondiale che arriva a novembre, questa volta, una grandissima cacciata che abbiamo fatto, però andrà così, per quanto riguarda anche le quote, le scommesse, che poi alla fine qualche giocatina ce la faremo, che stavamo dicendo anche ieri che parlavamo con Renato Costanzo di scommesse, che dicevamo che delle volte sono le partite sono 1,30 che invece poi non le indovini e diceva, allora lui mi dice ma queste quote, ma come le fanno? Io tante volte dico che le quote sono sbagliate, ci sono delle quote che a volte sono sbagliate in modo sospetto, nel senso che te portano a sbagliare tipo partite 1,20 ma che poi non sono così scontate e poi magari finiscono 2 a 2 quindi attenzione alle quote voi dovete fare quello che ho fatto io adesso le formazioni capire chi gioca capire come gioca chi gioca per vincere bisogna conosce bene le squadre per conosce bene le squadre bisogna vederle giocare sapere come giocano conosce chi gioca perché se nel Senegal gioca Sadio Manè è un Senegal se non gioca Sadio Manè e gioca D.A. della Serenitana è un altro Senegal quindi poi alla fine quello che veramente conta poi la partita può andare in mille modi perché certo se l'arbitro fa le cappelle dopo 5 minuti e spegne il portiere è chiaro che cambiano le partite però in generale voglio dire Inghilterra l'Inghilterra vincerà l'Inghilterra questo è il discorso in generale poi 1.32 tra l'altro ma poi una buona quota a questo punto in generale riesci più o meno Qatar Ecuador è chiaro che è una partita che ci si capisce una mazza perché chi l'ha visto gioca mai il Qatar l'Equador non è una squadra debole attenzione io per come ragiono potrebbe anche vincere l'Equador perché mi sembra che tecnicamente come esperienza come partecipazione mondiale sono molto più esperti però loro avranno una spinta enorme dal pubblico di casa c'è tutto un sistema che spingerà il Qatar spero che uno ci metta anche l'arbitro ma non lo escludo che spingerà il Qatar quindi diventa complicato fare un pronostico di una partita del genere va bene ragazzi allora io intanto vi ho presentato le formazioni io mi ho fatto un ripasso pure io della situazione non è facile fare un pronostico bisogna capire bene quali saranno le condizioni atmosferiche che potrebbero anche per esempio avvantaggiare qualche squadra africana che farà molto caldo come appunto anche il Camerun ad esempio se mi farà molto caldo bisogna vedere le squadre europee come per esempio la Germania l'Inghilterra queste squadre qui come si adatterà la Francia come si adatteranno un po' al clima però è un mondiale che mi sembra più che mai incerto questa volta chiaramente il Brasile e l'Argentina sono un po' le squadre forse anche più motivate a vincere un mondiale visto che è l'ultimo mondiale sia di Messi che di Ronaldo e nella personalissima sfida fra i due che non hanno mai vinto un mondiale è chiaro che se uno dei due vince questo mondiale inevitabilmente scavalcherà l'altro in questa singolare competizione perché se Messi vince il mondiale poi alla fine tutti diranno Messi o Ronaldo? però Messi ha vinto un mondiale e Ronaldo no capite qual è il discorso non è poco al momento Messi ha vinto un europeo ma scusate Ronaldo ha vinto un europeo ma Messi ha vinto una Coppa America quindi effettivamente forse chi farà molto meglio dell'altro in questo mondiale potrebbe tranne grande vantaggio poi nella considerazione collettiva a fine carriera nella competizione fra i due allora ragazzi io vi saluto vi ricordo l'inizio della manifestazione è il 20 novembre tutte partite andranno sulla Rai quindi se potranno vedere in chiaro quindi seguiremo anche questa competizione grazie per l'attenzione e buona giornata